Sabato 1 aprile ci sarà un'iniziativa importante per questo territorio e quando parlo di territorio parlo di ambito territoriale sociale 6, cioè l'aggregazione di 9 comuni che parte da Fano e arriva fino a Pergola per la gestione in maniera coordinata, integrata e sempre più associata delle politiche sociali e quindi degli interventi e dei servizi sociali di questo territorio. Sarà un momento di racconto su quello che è stato il percorso finora, quelle che sono le prospettive e le sfide che ci aspettano davanti ma soprattutto sarà anche un modo per misurare quello che abbiamo chiamato appunto l'impatto sociale, il welfare di questa comunità tramite testimonianze da parte della parte istituzionale e anche dalla parte dei partner del terzo settore. Quindi offrendo anche dei contributi sia in termini qualitativi ma anche quantitativi perché mostreremo appunto quello che è successo anche dal punto di vista dell'evoluzione della spesa sociale anche caratterizzata con delle progettualità virtuose. Quindi davvero per chi ha voglia, per chi ha interesse, per chi vuole comunque sapere e conoscere insomma tutto il percorso che abbiamo fatto ma soprattutto anche le prospettive che ci aspettano, l'invito è per tutti sabato alle 10 al Cinema Masetti di Fano.